Obiettivo? Crescita del calcio femminile a livello regionale. Questo quanto emerso dall'incontro formativo svoltosi nella sede aquilana del Comitato Regionale Abruzzo LND tra le società di eccellenza ed il rappresentante e designatore aia al femminile Gilberto De Gregoris. Quest'ultimo durante il confronto ha illustrato l'importanza di alcune fasi della gara in cui gli arbitri sono chiamati a prendere delle decisioni. A fare gli onori di casa ci hanno pensato il numero uno del calcio della nostra regione Ezio Memo e la responsabile del calcio femminile Abruzzo Laura Tinari. Abbiamo deciso di organizzare un momento di confronto con l'AIA all'interno del quale presentare anche la Coppa Italia di questa stagione. Noi vediamo nell'AIA, negli arbitri uno degli attori o meglio dei partner in questo nostro progetto perché soltanto attraverso la collaborazione con le altre parti del nostro sistema siamo certi di poter realizzare e finalmente far crescere così come merita il calcio femminile nella nostra regione. Io lo ripeto sempre ma lo ripetiamo sempre tutti noi del comitato a partire dal presidente Ezio Memo, il nostro compito non è vigilare sull'errore tecnico, noi non interverremo mai su quello ma semplicemente su quelli che possiamo chiamare comportamentali affinché appunto il calcio femminile possa crescere anche con grazie alla collaborazione degli arbitri. Nell'occasione è stato svelato il tabellone della Coppa Italia femminile che prenderà il via il prossimo 4 dicembre per concludersi con la finalissima del 2 aprile 2023 che verrà disputata in campo neutro. Testa, cuore e gambe con queste armi le ragazze abruzzesi sono pronte a scendere in campo.